Il sindaco Gambino ha chiesto alle federazioni regionali nuoto un parere preventivo all'espletamento delle gare agonistiche atteso quando si evince dal progetto depositato dalla ditta che si è giudicata all'appalto per la gestione della piscina comunale? La domanda non è retorica e a porsela è il consigliere comunale Annalisa Petitto che aggiunge che non è di poco rilievo se si pensa che la vasca della piscina comunale da 4 metri verrebbe portata a 1,40 m così come emerge dalla relazione tecnica del progetto depositato a fine dello scorso settembre all'ufficio tecnico del comune a modifica ed integrazione del precedente. Tale riduzione della profondità della vasca pregiudicherà diverse attività sportive come certamente la pallannuoto, il nuoto sincronizzato e il salvataggio. Aggiungiamo il fatto che ad essere pregiudicati sarebbero anche i corsi di nuoto che prevedono ovviamente un fondamentale step quale lo spostamento di acqua profonde ma soprattutto siamo certi che le gare agonistiche di livello regionale sarebbero autorizzate con una vasca di profondità 1,40 m. Ho già inoltrato interrogazione urgente al sindaco nell'ospicio che la risposta pervenga prima del consiglio comunale di prossima fissazione seduta in cui il sindaco dovrà assumersi la responsabilità di fronte e nisseni. Abbiamo sentito l'assessore allo sport Fabio Caracauci che in una nota ha spiegato che la piscina comunale attualmente ha una profondità di 1,40 m nella parte bassa e di 3,50 m nella parte alta. Una profondità inferiore ai 3,5 m non ridurrà l'offerta sportiva che la piscina ha avuto in passato in quanto i regolamenti fin permettono di svolgere tutte le attività legali a livello nazionale regionale. Per quanto riguarda la pallannuoto la lunghezza della vasca deve essere 35 m, attualmente è di 25 m. L'altezza minima della vasca deve essere 1,80 m mentre attualmente non arriva ai 140 cm quindi non si può svolgere la pallannuoto così come vale per il nuoto sincronizzato. Un livello di acqua più basso agevolerà le scuole di nuoto favorendo l'apprendimento e la migliore sicurezza nel lavoro degli istruttori. L'abbassamento del livello dell'acqua non diminuisce l'offerta sportiva ma la migliora. In conclusione le modifiche proposte dalla società concessionaria non comportano un utilizzo sportivo della piscina inferiore rispetto a quello attuale.